Il Vangelo non dice nulla, ma i riferimenti biblici che alludono all'eleganza di Maria sono tantissimi. Basterebbe pensare a quel passo del Cantico dei Cantici, nel quale la liturgia intravede, come in filigrana, la figura della Madonna, che lotta in nostro favore contro le forze del male. Chi è Costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come schiere a vessilli spiegati? Il testo latino dice electa ut sol. Electa vuol dire elegante. Ha la stessa radice verbale, elegante come il sole. Non c'è chi non vede come, di fronte a lei, i modelli disegnati da Valentino. Sembrano ciarpame e le creazioni di Giorgio Armani, scampoli da rigattieri. Ma c'è anche l'Apocalisse, che riprende gli elementi cosmici del sole, della luna e delle stelle, con cui l'arte di tutti i secoli ha imbastito le cose più leggiadre sull'eleganza di Maria. Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. E poco più avanti ricorre un altro celebre testo, che si riferisce, è vero, alla nuova Gerusalemme, ma nel quale la tradizione, attraverso quel gioco di dissolvenze teologiche per cui spesso realtà e segni si scambiano le parti, ha scorto la presenza di lei. Sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta, le hanno dato una veste di lino puro, splendente. La veste di lino sono le opere giuste dei Santi. La Vergine, quindi, questa anticipazione meravigliosa della Chiesa, scende dal cielo, adorna di monili e palpitante di veli. Pronta, come una sposa adorna per il suo sposo, è tutto un inno all'eleganza di Maria, una eleganza chiaramente da leggere in termini di finezza interiore e non certo sulla base delle sue frequentazioni presso le boutique di Nazareth o gli atelier di alta moda di Gerusalemme, benché a meditare attentamente il Vangelo non sembrano del tutto fuori posto le allusioni anche all'eleganza fisica di Maria. Io non so se nell'intimità della casa, dove fioriscono i vezzeggiativi della tenerezza, Gesù si divertisse a chiamare sua madre con i nomi delle piante più profumate, come un giorno avrebbe fatto la Chiesa, Rosa di Gerico, Giglio delle Convalli, Cedro del Libano, Palma di Cades. C'è da supporre, però, che pensasse proprio a lei, Fiore di Bellezza, quando un giorno dissi alle folle, osservate come crescono i gigli del campo, io vi dico che neppure Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Come pure c'è da supporre che pensasse proprio a lei quando disse Lucerna del corpo e l'occhio, se il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella luce, in quel momento dovetterò balenargli gli occhi di sua madre. Quegli occhi in cui non solo traduceva la trasparenza dell'anima, ma che davano spessore di santità anche all'eleganza del suo corpo. Santa Maria, donna elegante, dal momento che vestivi così bene, regalaci, ti preghiamo, un po' dei tuoi abiti, aprici il guardarobba, abituaci ai tuoi gusti, lo sei bene, ci riferiamo a quei capi di abbigliamento interiore che adornarono la tua esistenza terrena, la gratitudine, la semplicità, la misura delle parole, la trasparenza, la tenerezza, lo stupore. Ti assicuriamo sono abiti che non sono ancora passati di moda, anche se sono troppo grandi per le nostre misure. Faremo di tutto per adattarli alla nostra taglia. Svelaci, ti preghiamo, il segreto della tua linea. Innamoraci del tuo esprit de finesse. Preservaci da quelle cadute di stile che mettono così spesso a nudo la nostra volgarità. Donaci un ritaglio del tuo velo di sposa e facci scoprire nello splendore della natura e dell'arte i segni dell'eleganza di Dio. Santa Maria, donna elegante, liberaci da quello spirito rozzo che ci portiamo dentro, nonostante i vestiti raffinati che ci portiamo addosso e che esplode tante volte in termini di violenza verbale nei confronti del prossimo. Come siamo lontani dalla tua eleganza spirituale. Indossiamo abiti con la firma di trussardi, ma i gesti del rapporto umano rimangono sgraziati. Ci spalmiamo la pelle con i profumi di Versace, ma il volto trasuda ambiguità. Ci mettiamo in bocca i più ricercati dentifrici, ma il linguaggio che ne esce è da trivio, il vocabolario si è fatto greve, l'insulto è divenuto costume, le buone creanze sono in ribasso. Anzi, se in certi spettacoli televisivi mancano gli ingredienti del turpiloquio, sembra che cali perfino l'indice di ascolto. Donaci perciò un soprassalto di grazia che compensi le nostre intemperanze e facci capire che finché non vedremo in colui che ci sta accanto un volto da scoprire, da contemplare e da accarezzare. Le più sofisticate raffinatezze rimarranno sempre formali, le più costusi abbigliamenti non riusciranno a mascherare la nostra anima di straccioni. Santa Maria, donna elegante, tu che hai colto con tanta attenzione il passaggio di Dio nella tua vita, fa che anche noi possiamo captare la sua brezza. Anche lui è molto elegante e difficilmente rompe nella nostra storia con la potenza del fuoco o dell'uragano o del terremoto, ma come sul monte Oreb si fa sentire nello stormire leggerissimo delle fronde. Occorrono antenne delicate per registrare la sua presenza. C'è bisogno di un orecchio sensibile per percepire il frusciare dei suoi passi quando almeriggio, come faceva con Adamo, scende ancora nel nostro giardino. Aiutaci a intuire tutta la delicatezza di Dio in quell'espressione biblica con la quale egli, il Signore, esprime quasi il pudore di disturbarci. Forse a Giovanni, mentre scriveva l'Apocalisse, quelle parole gli le hai dette a te tu. Ecco, io sto alla porta e busso. Se uno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Rendici pronti a rispondere con la tua stessa finezza di stile al suo discreto bussare, così che possiamo aprirgli subito la porta e fargli festa e condurlo a tavola con noi. Anzi, visto che lui si ferma, perché non rimani a cena anche tu.